Benvenuti, ora abbiamo tutti l'audio attivo, benvenuti a questa quarta puntata di Nostra Dalmine Show. Nostra Dalmine Show è stata questa diretta di mezz'ora durante la quarantena per tenerci un po' compagnia e per aggiornarci sulla situazione a Dalmine. Abbiamo deciso di continuare questo progetto e farlo diventare una diretta però solo una volta al mese, alla fine del mese, in modo tale da fare un po' un riassunto di quello che è successo a Dalmine nel mese precedente. Quindi siamo a fine maggio, oggi parliamo di quello che è successo a maggio e una piccola presentazione su chi siamo. Nostra Dalmine è una lista civica di giovani nata nel 2013. Abbiamo due consiglieri comunali, Fabio e Alice, presenti attualmente in consiglio comunale. Nostra Dalmine Show si può vedere in video in questo momento, siamo live su Facebook, ma non appena la live sarà conclusa potrà essere recuperato sempre su Facebook e anche sul nostro canale YouTube, basta cercare Nostra Dalmine. E poi verrà estrapolato un podcast audio e lo potrete trovare sulle principali piattaforme, basta cercare Nostra Dalmine Show e lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, dove volete voi. La scaletta di questa sera, parliamo subito, si parte a bomba con l'ultimo consiglio comunale, ci parlerà il nostro Fabio come è andata, poi un aggiornamento su solidarietà informatica e rinascimento Dalmine e infine io vi parlerò di Porta Nuova, quindi qualche piccolo aggiornamento sulla viabilità e sul cantiere. Quindi lascio volentieri la parola a Fabio che ci parlerà di com'è andato l'ultimo consiglio comunale. Grazie Roberto, buon pomeriggio a tutti. Io sono Fabio, come vi diceva appunto Roberto, e insieme ad Alice sono i rappresentanti di Nostra Dalmine in consiglio comunale, quindi in questo mese c'è stata un po' la ripresa dei lavori e dell'attività in consiglio comunale, anche se con una forma chiaramente molto inedita, perché siamo stati convocati in maniera telematica, quindi abbiamo svolto il consiglio comunale completamente da remoto, a distanza. Devo dire che è stata anche un'esperienza molto positiva, nel senso che i lavori sono proceduti con una certa fluidità e senza particolari intoppi, quindi sicuramente un'esperienza molto positiva che si potrà ripetere in futuro, anche non in una situazione emergenziale, qualora ben sia la necessità magari da parte di uno o più consiglieri non a disposizione fisicamente. In consiglio comunale si è parlato di molte cose, però stasera ve ne accenniamo solo alcune, in particolare uno degli argomenti all'ordine del giorno più importanti è stato la variazione di bilancio, che ha riguardato i fondi che sono stati ottenuti da parte del nostro comune, erogati da Regione Lombardia, dallo Stato e da altri enti, privati e pubblici. In questi fondi sostanzialmente hanno consentito al nostro comune di avviare una serie di opere che appunto avranno impatto nel nostro comune nei prossimi anni. Sostanzialmente come nostradamine abbiamo, insomma aveva fatto le domande di rito per quanto riguarda la destinazione dei fondi per queste opere e abbiamo lavorato soprattutto sul concetto dei buoni spesa che sono stati erogati da parte dello Stato verso appunto il nostro comune. In particolare abbiamo richiesto i criteri che sono stati utilizzati per quanto riguarda appunto i buoni spesa. Le risposte sono state parzialmente soddisfacenti in quanto solo sicuramente sono stati adottati dei buoni criteri per quanto riguarda l'ambito di Dalmine, ma è mancata una vera e propria stima matematica precisa che consentisse a tutti in modo preciso ed univoco appunto di erogare questi fondi. Detto ciò fortunatamente non si sono verificate grosse problematiche ad Dalmine, nel senso che addirittura si è avuto un risparmio di circa 8.000 euro sui fondi erogati dallo Stato che verranno poi riutilizzati per le utenze. Notizia nuova, visto che la delibera è stata pubblicata due giorni fa, le utenze di luce e gas da parte delle famiglie che ovviamente hanno difficoltà purtroppo in questo periodo a pagarle. Dopodiché in Consiglio Comunale si è parlato di una novità importante per quanto riguarda le associazioni e gli enti del terzo settore, nello specifico la modifica al regolamento delle associazioni. È una modifica molto importante perché introduce nel nostro comune l'albo dei volontari singoli che è un'innovazione già presente in altri comuni e che serve moltissimo. Per esempio in questa emergenza se ci fosse stato un albo dei volontari singoli sarebbe stato tutto molto più semplice e fluido nella erogazione di alcuni servizi come i pasti a domicilio, la spesa a domicilio che sono stati fatti tramite l'intermediazione di Avis, dell'Associazione dei Volontari per la Donazione del Sangue. Ecco, introducendo questo albo di volontari singoli che vengono poi tutelati a livello legale e sicurativo dal comune, tutto diventa più semplice. Il comune stesso a garantire, a fare da garante per chi si iscrive e a organizzare i lavori di volontariato che sono necessari sul territorio. Una bellissima cosa, quindi invitiamo sicuramente tutti i cittadini che vogliono fare del volontariato senza troppo impegno per il nostro comune ad iscriversi a questo albo così che possano dare la propria opera per il nostro territorio sulle tematiche loro più affini. Infine, l'argomento, diciamo, cardine per quanto ci riguarda è stata la risposta ad alcune interrogazioni che avevamo posto negli scorsi mesi rispetto chiaramente alla gestione del coronavirus e di tutto quello adesso connesso, quindi sostanzialmente avevamo richiesto diverse informazioni, alcune ci sono arrivate come risposta delle interrogazioni scritte come il numero dei contagi, il numero dei contagi nell'RSA, quindi tutta una serie di dati numerici su cui abbiamo voluto avere una panoramica più precisa e dettagliata ed ufficiale dal nostro comune. In consiglio comunale, invece, abbiamo discusso tematiche un pochino più politiche, diciamo così. Per esempio, un'interrogazione è stata dedicata al servizio di spesa a domicilio per anziani e per persone soggette ad una, come si dice, una quarantena, adesso non mi viene il termine tecnico, chiedo scusa, servizio che è stato molto proficuo nelle ultime settimane e che naturalmente ora ha una caduta naturale di volontari dal momento che i volontari hanno ripreso tendenzialmente le loro attività lavorative o universitarie. Detto ciò, anche in questo caso abbiamo avuto delle rassicurazioni importanti visto che ad un affiancarsi di questa riduzione di volontari c'è anche sicuramente una riduzione molto forte delle utenze. Abbiamo avuto numeri più precisi poi negli ultimi giorni a completamento e sicuramente la situazione è sotto controllo e di questo siamo molto contenti. Ne approfittiamo chiaramente per fare un ringraziamento ai volontari delle spese, visto che sono stati numerosissimi e hanno fatto un lavoro davvero eccezionale nel nostro territorio. Altra interrogazione è quella riguardo all'utilizzo delle mascherine in casa. C'era il comune che aveva mandato una raccomandazione al 10 di aprile riguardo all'utilizzo delle mascherine in casa, invitando la popolazione tramite le parole di un noto epidemiologo ad utilizzarle nel proprio domicilio. Avevamo un po' sorto il naso di fronte a questo avvenimento, visto che chiaramente già le mascherine, soprattutto il 10 di aprile, erano praticamente introvabili sul nostro territorio, figuriamoci, utilizzarle in casa, cosa che peraltro non era nemmeno stata prescritta in via ufficiale dall'Istituto Superiore di Sanità o da altri enti come ATS. In ogni caso l'amministrazione non ha ritrattato la propria posizione, avevamo chiesto una rettifica o comunque un confronto tramite una lettera a cui non abbiamo avuto risposta. Nell'interrogazione che è seguita appunto in Consiglio Comunale, il comune per via del sindaco Bramani, ha sostanzialmente ritenuto la propria posizione come legittima, visto che la maggior parte dei contagi è avvenuta nel domicilio. Questo sicuramente è vero, ma non è vero il fatto che l'utilizzo della mascherina in casa fosse una prescrizione da comunicare alla cittadinanza, anzi questo ha generato sicuramente parecchia confusione. Infine abbiamo svolto un'interrogazione urgente, che è stata effettivamente accolta dal Presidente del Consiglio Comunale Terzi e che ci ha permesso di smarcare un tema molto importante sul nostro territorio, quello dei centri ricreativi estivi. È stato un tema che sicuramente non ha la sua conclusione nella saluta del Consiglio Comunale dello scorso lunedì, è chiaro che è un tema fondamentale e qual è? Il tema è proprio il fatto che con la chiusura delle scuole tra circa una settimana, dieci giorni, bambini e ragazzi di tutte l'età non avranno di fatto più un'occupazione durante la giornata e questo si insomma al fatto che i genitori tendenzialmente o sono a casa lavorare o sono rientrati addirittura presso le sedi lavorative, quindi c'è effettivamente una tematica molto forte di impiego del tempo. I CRE, così come li conoscevamo, parrocchiali o privati, che dir si voglia, sicuramente non potranno essere confermati quest'anno nella loro forma ordinaria, quindi è importante capire se l'amministrazione, anche attraverso i fondi che verranno arrogati dallo Stato a questo principio scopo, si farà garante di una offerta culturale e formativa e sociale sul territorio. Ad oggi l'assessore vice sindaco Iodice, che ha delegato alla pubblica istruzione e alla cultura, ci ha informato che le parrocchie sono ovviamente in costante aggiornamento rispetto a questo tema, che oggi tuttavia hanno dichiarato la loro indisponibilità a fare dei CRE, pur tuttavia hanno dichiarato la propria disponibilità in termini di spazi, ovvero concederanno, se il comune vorrà farsi carico di un progetto, gli oratori per questo scopo. Ad oggi Iodice comunque ci ha informato di essere in contatto con tutta una serie di attori privati e pubblici del territorio, ma ancora non si hanno delle notizie definitive. Devo dire personalmente ringrazio chi in questi giorni ci ha stimolato su questo argomento, che è un argomento ovviamente fondamentale e su cui ci terremo sicuramente aggiornati, ad esempio martedì c'è la cerimonia del 2 giugno, la mattina, e quindi avremo modo di riconfrontarci nuovamente con Iodice per capire se ci sono degli sviluppi. Chiaramente fateci tutte le domande che ritenete tramite i commenti e questa live, vi risponderemo al termine, sono molto felice se avete qualche curiosità specifica sul Consiglio Comunale e su alcuni degli argomenti che ho trattato, ma in questo momento lascio poi la parola agli altri argomenti. Ok, grazie Fabio per il riassunto del Consiglio Comunale. Adesso passiamo al prossimo argomento che riguarda due aggiornamenti, uno su solidarietà informatica e l'altro su rinascimento d'Almine e per questo lascio la parola a Mattia che si occuperà di informarvi su questi due aspetti. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie Roberto. Come vi è stato anticipato, per prima cosa mi prenderò alcuni minuti per fare un resoconto di solidarietà informatica, l'iniziativa che il Comunale d'Almine ha lanciato nel mese di aprile dopo una proposta della nostra lista e che si è conclusa settimana scorsa. Allora, un brevissimo ripasso, in cosa consisteva questa iniziativa? Sostanzialmente essa è stata messa a punto per aiutare gli studenti di qualsiasi età che per i motivi più svariati non fossero muniti di un dispositivo adatto alla didattica a distanza, che chiaramente si è resa obbligatoria e necessaria nel corso dell'emergenza coronavirus e che non avessero altro modo per procurarsene uno in tempi brevi. Quindi fondamentalmente il Comune ha invitato i cittadini di Dalmine, ma non solo, a donare computer e tablet in disuso, ma in condizioni diciamo dignitose, in modo tale che un gruppo di volontari potesse in qualche modo rivitalizzarli e renderli appunto utilizzabili a fini didattici. Questo gruppo di volontari era composto, anzi è composto, in quanto tuttora rimane disponibile ed attivo per aiutare le persone che hanno ricevuto un dispositivo in caso dovessero avere difficoltà di utilizzo, da tre membri di nostra Dalmine, ovvero il sottoscritto, il nostro Roberto che ci supportava dalla Finlandia e Jacopo, più altri sei ragazzi, Davide, Ovidio, Ruben, Giorgio, Nicola e Gioele, che colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente per il gran lavoro svolto. Allora, il nostro lavoro, in pochissime parole, era così articolato. Circa una volta a settimana una dipendente dell'ufficio istruzione del Comune ci consegnava appunto dei dispositivi per i quali noi tra l'altro ogni volta firmavamo un modulo riguardante la privacy dei dati eventualmente presenti e noi appunto cercavamo di apportare svariate modifiche e migliorie sia a livello di hardware che di software che potessero rendere, come ho detto prima, utilizzabili i dispositivi che poi venivano quindi riconsegnati e infine eventualmente messi in circolo per chi ne aveva fatto richiesta. L'iniziativa si è conclusa con dei numeri molto buoni, considerando anche che nelle settimane in cui si è svolta abbiamo avuto a che fare veramente con macchinari di qualsiasi tipo e di qualsiasi epoca. Infatti in definitiva ci sono stati consegnati 38 computer tra portatili fissi, anche assemblati, un tablet e una stampante e noi siamo riusciti a svecchiare per così dire 23 computer più la stampante, mentre altri 5 computer sono stati lasciati in sospeso in quanto utilizzabili ma con fatica e infine purtroppo i rimanenti 11 dispositivi ovvero 10 computer e il tablet sono stati definitivamente buttati in quanto non riparabili o troppo obsoleti. Quindi tirando le somme è stata appunto un'iniziativa davvero ben riuscita, molto soddisfacente, speriamo anche utile chiaramente per la cittadinanza e colgo nuovamente l'occasione per ringraziare chi l'ha resa possibile, in particolare i volontari, i dipendenti comunali, i cittadini che hanno donato i loro dispositivi. Ora cambierò completamente argomento per aggiornarvi brevemente su un'altra iniziativa, anzi un pacchetto di iniziative su cui la nostra lista ha lavorato durante il lockdown e di cui vi avevamo già parlato in maniera approfondita durante l'ultima puntata, ovvero il progetto Rinascimento d'Almine. Rinascimento d'Almine, come forse ricorderete se avete appunto seguito l'ultima puntata dello show, è un documento pieno di idee e proposte che abbiamo realizzato per supportare l'economia locale, le famiglie e la rete sociale di Dalmine. Il 2 maggio i nostri consiglieri Fabio e Alice hanno presentato il documento all'amministrazione, in un incontro che è stato tutto sommato positivo e in cui si è aperto un buon dialogo, in cui l'amministrazione ha apprezzato molte delle nostre proposte e ne studierà i dettagli per provare a mutare l'interessamento in un'effettiva applicazione. Tra queste proposte, ad esempio, cito il progetto Prometto di Tornare, che consiste nella creazione di coupon validi negli esercizi commerciali del territorio, che i commercianti potranno vendere a quei cittadini che, per un motivo o per un altro, non dovessero ancora fidarsi nel recarsi in posti particolarmente frequentati, come ad esempio bar e ristoranti. In questo modo i commercianti potranno assicurarsi delle entrate in questo periodo di crisi e i clienti potranno usufruire di quanto acquistato in futuro. Un'altra proposta che menziono è quella che prevede di creare un portale degli artigiani di De Dalmine, così da pubblicizzarli. E va inoltre la pena sottolineare come alcune delle idee che abbiamo presentato fossero già in progetto da parte della Giunta. Purtroppo, d'altra parte, altre proposte da noi illustrate non hanno riscontrato lo stesso interesse, come ad esempio il baratto amministrativo, ovvero un servizio che avrebbe consentito ai cittadini di pagare parte delle tasse comunali nella forma di di piccole manutenzioni a favore del comune e il business hackathon, ovvero un evento in cui i cittadini dalminesi avrebbero potuto contribuire attivamente a studiare modalità alternative per rilanciare l'economia e il commercio locali. E io con questo ho concluso, grazie a tutti e ripasso la parola a Roberto. Sì, grazie Mattia. Proprio rilacciandomi a quello che hai raccontato, volevo ritornare un attimino sul Consiglio Comunale per raccontare a chi ci sta seguendo quanto accaduto rispetto ad una forte critica che ci è stata posta dall'amministrazione comunale, per voce del sindaco principalmente, e che è quella di non aver in alcun modo collaborato alla gestione dell'emergenza sanitaria sul territorio, ma anzi di aver solo fatto polemica rispetto ad alcuni aspetti della gestione. Questo in relazione ad alcune interrogazioni che avevamo presentato anche con la minoranza che con noi è in Consiglio Comunale. Beh, io penso, come d'altronde tutti noi pensiamo, che solo le due cose che ha appena detto Mattia, quindi il progetto della solidarietà informatica che è stato fatto sul territorio, a partire dalla nostra iniziativa, e il progetto di rinascimento d'Almine che ha proposto effettivamente l'amministrazione dei temi per il rinancio sociale ed economico della nostra città, sono due fulgi di esempi di come non ci siamo affatto limitati agli aspetti della critica rispetto all'amministrazione sulla gestione di alcuni specifici passaggi. Ma anzi, abbiamo collaborato attivamente e stiamo collaborando attivamente per la risoluzione di alcune importanti questioni. Abbiamo quindi rispedito al mittente le critiche molto violente che ci sono state fatte, anche se ovviamente rimane da parte di tutti noi un fortissimo rammarico per le critiche ricevute. Questo è completamente un pochino di quello che è stato anche ripreso dai giornali in questi giorni rispetto appunto a questa diatriba avvenuta in Consiglio Comunale che era doverosissimo a riportare. Grazie, intanto Roberto ci illustrerà ora i punti successivi. Grazie Fabio. Aggiungo che il Consiglio Comunale è disponibile online per chi lo volesse rivedere. Se andate su YouTube e cercate il Consiglio Comunale d'Almine trovate un nostro video e nella descrizione ci sono tutti i punti a scaletta con i minutaggi precisi, quindi non dovete guardare tutte le tre ore di Consiglio Comunale, ma potete saltare da una parte all'altra quelle che più vi interessano. Continuando, passiamo all'ultimo pezzetto del nostro show che riguarda Porta Nord. Un piccolo recap che cos'è Porta Nord è la grande urbanizzazione che la società Ferretti sta costruendo a Sforzatica tra il campo di calcio, quello che comunemente viene chiamato US, e la grande rotonda dell'autostrada. Sostanzialmente verranno costruiti dei grandi capannoni per attività commerciali. Un piccolo pezzo interesserà il settore terziario, si parla anche di qualcosa legato alla sanità ma non è ancora certo, e poi una parte residenziale a ridosso del campo circa 5-6 edifici che ospiteranno appartamenti per le persone. Un primo aggiornamento riguarda la viabilità, infatti a febbraio la Giunta Comunale, cioè l'organo composto dal sindaco Bramani e dagli assessori, ha approvato i progetti che riguardano la viabilità esterna di Porta Nuova. Cosa significa? Quando viene costruito e portato avanti un progetto così grande è naturale fare delle modifiche viabilistiche all'esterno dell'area in oggetto. Questo perché? Perché ovviamente tutte le costruzioni che verranno fatte all'interno dell'area aumenteranno il traffico, creeranno nuovo traffico, di conseguenza bisogna modificare la viabilità esterna per venire incontro a queste nuove necessità. Ci saranno soprattutto due interventi che riguarderanno la viabilità. Il primo intervento riguarda il raddoppio delle corsie del tratto di via provinciale che va dalla rotonda dell'autostrada all'incrocio con il semaforo di via Guzzanica. Quindi attualmente ci sono due corsie, una corsia per senso di marcia, diventeranno quattro corsie, due corsie per senso di marcia. L'altra modifica viabilistica riguarda l'incrocio di via Guzzanica, quindi quell'incrocio che arriva da Sforzatica e va a Guzzanica e incrocia via provinciale e questo incrocio diventerà una rotonda e nell'immagine potete vedere il progetto a grandi linee che interesserà l'incrocio. L'ultima questione di Porta Nord, scusate mi stavo dimenticando di una cosa, quando verranno fatti e quanto costano questi interventi. Sul quanto costano circa un milione e mezzo di euro e li pagherà Ferretti. E sul quando verranno fatti non è ancora chiaro quando inizieranno i lavori, ma si sa che più o meno quando inizieranno dureranno sei mesi entrambi gli interventi. Per quanto riguarda il cantiere che è iniziato ormai da qualche mese, nelle ultime settimane alcuni cittadini ci hanno scritto lamentando due problemi in particolare. Uno riguarda i rumori dei mezzi che lavorano nel cantiere e l'altro riguarda le polveri che questi mezzi sollevano mentre lavorano. Quindi abbiamo, siamo i nostri Fabio e Francesco, sono andati a controllare il cantiere, a dare un'occhiata per controllare che tutto fosse a posto e per capire meglio la situazione. Nel frattempo dei cittadini che abitano in zona ci hanno segnalato che il comandante della polizia locale Amaturda ha deciso di incontrare il capo cantiere, la persona che si occupa dei lavori all'interno dell'area per cercare di risolvere i problemi che riguardano appunto il rumore e la polvere. Per quanto ci riguarda noi continueremo a prestare attenzione a quello che succede dentro Porta Nord e continueremo il dialogo con i cittadini in modo tale da capire se questi problemi verranno risolti o comunque attenuati. Bene, direi che abbiamo concluso gli argomenti di questa puntata. Se avete domande inerenti a quello che abbiamo trattato ma anche ad altre cose potete scriverceli qui sotto nella live e noi risponderemo. Sì, Roberto, approfitto di questo spazio per rispondere a una domanda che ci è arrivata in realtà tramite messaggio privato, non tramite questa live, però è bene riprenderla che riguarda il tema dei parchi cittadini e dei giochi dei bambini nello specifico, nel senso che fino a qualche giorno fa quantomeno i giochi per bambini naturalmente erano transennati per così dire e inutilizzabili in questo momento anche a causa delle prescrizioni sanitarie che chiaramente richiederebbero un intervento sui giochi stessi, una volta utilizzati da un bambino e poi dall'altro. Su questo tema non abbiamo una risposta immediata ma ci informeremo senz'altro presso l'assessore alla cultura della pubblica istruzione che incontreremo probabilmente nei prossimi giorni anche per altre questioni, quindi vi teremo poi aggiornati tramite la nostra pagina, però in questo momento ci risulta che sicuramente una parte della segnaletica che riguardava i giochi è stata rimossa, detto ciò vi invitiamo comunque alla cautela nell'utilizzo dei giochi stessi in attesa di indicazioni più ufficiali da parte del comune di Darmine o comunque di una conferma del fatto che possono o meno essere utilizzati. Ok, grazie Fabio, aspettiamo ancora un pochino in attesa delle domande, c'è più o meno un ritardo di 30 secondi tra la diretta su Facebook e il programma che usiamo per farla. e sfrutto questo momento per ricordarvi che questo video sarà disponibile dopo pochi minuti dalla conclusione della diretta e nei commenti metteremo tutte le risorse, gli articoli del nostro blog ad esempio per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato. vedo che più che domande ci sono saluti nei commenti alla questa live. Simone che ti saluta. Grazie Simone. Detto ciò, soprattutto visto l'orario in cui magari non tutti sono collegati in questo momento, se qualcuno dovesse vedere indifferita come probabilmente molti faranno questo video, la domanda fatecelà naturalmente attraverso i nostri canali Facebook o Instagram in direct oppure inviandoci una mail a nostra dalmini a chiocciolagmail.com che è la mail ufficiale in cui raccogliamo tutte le varie segnalazioni relative al territorio. Ci fa ovviamente molto piacere ricevere domande, segnalazioni, anche perché ovviamente è il nostro lavoro da consiglieri quantomeno, ma anche da come gruppo politico in generale, quindi fatelo senz'altro e insomma sfruttate il canale istituzionale su cui io e Alice in particolare abbiamo diretto accesso per risolvere e segnalare le questioni riguardanti danni. Bene, direi che è arrivato il momento di concludere questa diretta, ringrazio Matti e Fabio per aver partecipato e ci vediamo direi più o meno fra un mesetto dove cercheremo di fare un nuovo show a fine giugno per tirare un po' le somme di come è andata questa quarantena e darci un po' di aggiornamenti sulle cose che succederanno a giugno e augurarci una buona estate. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, alla prossima, buona serata.